Iron Man dei Black Sabbath, ti suono il riff di base utilizzando quattro diteggiature diverse, in realtà ne avrai potute fare anche di più, però questo è un esperimento per far sì che una volta che sai le note puoi andare tu a cercarti delle diteggiature e puoi scegliere, puoi far tecnica sullo strumento forzando alcune diteggiature, oppure potrai comunque scegliere quelle che fanno più per te o che secondo te suonano meglio, scrivimi sotto nei commenti quale ti piace più delle quattro. Grazie